Diamo inizio ai sorrisi e alla marcia dei diritti per essere noi stessi, Pompei, ci siamo noi! Allora! Allora! Prova! Prova! GAY PORIS! GAY PORIS! Allora facciamo una prova genitore perché è un super bellissimo io mi portavo bene anche a Pompei Quando dice gay, risponde è:"pray, gay, 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 gaaaaay, gay, gay, gay", Quanto dice, vengono, 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 vengono. Si tu vive, come io vivo, io vivo, vacilando. Se succede come io vivo, io vivo vacilando Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info